buongiorno a tutti allora 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 ho fatto la spesa come vi avevo detto avrei fatto la spesina spesuccia vabbè alla fine della fiera ho speso 50 euro quindi non è stata proprio una spesa piccina picciò iniziamo col birrame come stasera arrivano gli amicuzzi a giocare a fare il pocherino ho preso la scorta tre moretti e tre pevoni eccole qua eccole qua aspettate che se no non si vede eccole lì la scorta poi teoricamente non dovrebbero berle tutte mi auguro magari ne bastano un paio però almeno per un po ce li abbiamo tanto almeno almeno fino alla fine di marzo tutte le settimane c'è il pocherino poi dopo io inizierò a lavorare al ristorante quindi ne riparleremo a ottobre magari giocheranno loro ma io ormai do forfè mi stop un attimo poi andiamo avanti proseguiamo con le briochine il brociame il briociame come lo chiamerebbe un mio caro amico allora ho preso la crema pasticcera della prima con il cioccolato come sempre eccolo qua cioccolato cioccolato e concludendo concludendo non lo tiro fuori o brucio dire non lo tiro fuori però va bene crema pasticcera alla cirliegia tanto sono sempre la stessa marca bene mi ristoppo un attimo e poi andiamo avanti sempre per la serie stasera arrivano gli amici e quindi ci vuole la scorta chinotto san pellegrino perché mica tutti bevono la birra coca cola coca cola quindi una bottiglia di san pellegrino chinotto e due bottiglie di coca cola poi sempre per i piccioncini che sono impazziti per queste caramelle perché uno ama la banana il piangino ama la banana e quindi gli ho preso le caramelle assortite alla frutta in cui c'è anche la banana che poi lui va a cercare disperatamente perché è quella che gli piace di più adesso vedremo sai su internet ci sono queste qua solo alla banana che così se ne prendo apposta poi un pacchettino di pane ma ce ne saranno questa è la curcuma aspettate che lo giro dalla parte giusta ma poi ce ne saranno ancora e ne ho presi sette pacchetti poi li metto in freezer bello tranquillo quando li tiro fuori sono morbidissimi intanto li faccio fuori abbastanza velocemente bicarbonato per lavare i pomodori e deodorante per il bagno perché così no io vado da paolo mi scappa la pupu vado da paolo e noi abbiamo la brezza marina che così almeno togliamo gli odori cattivi come nella pubblicità di una volta no del bambino che andava da paolo a fare la pupu va bene sorvogliamo visto che si parla di cibo mi ristoppo ancora un attimo e andiamo avanti perché ci sono altri tre sacchetti ragazzoli proseguiamo proseguiamo con questo pacchettino qua questo qua eccolo qua allora 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 abbiamo i miei soliti hot dog quelli che di solito uso se mi viene fame non mi basta il pacchettino quello li mangia anche un paninetto di questi in aggiunta poi sapone liquido questo è bagno schiuma ma io lo uso come lo metto dentro nel sapone per le mani e quindi lo uso come sapone per le mani è economico non costa granché costa due euro poi le noci eccole qua noci sgusciate perché tutte le sere dopo la cena li mangio tre nocine quindi sei pezzettini perché sono sgusciate a metà tendenzialmente quindi sei pezzettini poi se non sono così ne mangio qualcuno in più perché magari a volte sono spezzati in quattro shampoo alla camomilla perché quei pochi capelli che ho sono sempre agitati quindi li devo tenere a posto era in offerta quindi ne ho prese due antica erboristeria shampoo alla camomilla i tovaglioli perché li avevo quasi finiti quindi ho preso un pacchettino di tovaglioli questi mi durano sei mesi più o meno forse anche di più ma va bene ecco fatto questo era l'altro sacchettone della spesa quindi mi stop un attimo ce ne sono ancora due e poi andiamo avanti proseguiamo proseguiamo col sacchetto del pane il sacchettone del pane ho lasciato lì la bagnoschiuma vabbè tanto non succede mica niente lo sposto dopo allora grano saraceno grano saraceno alla curcuma questo è il secondo alla cucina 2 al grano saraceno 2 alla curcuma 1 l'ho già messo via frumento integrale un altro bel frumento integrale un multicereale quindi vedete si si varia si varia molto qua col pane ma tutte tutte cose abbastanza leggere non non pesantissime quindi roba tranquilla vedete ho lasciato ancora lì il bagnoschiuma adesso lo sposterò niente manca l'ultimo sacchetto metto via questi poi guardiamo anche l'ultimo sacchetto cosa ho preso bene 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 come direbbe il grande mai concludendo concludendo ecco non ho messo via lo sciavoli del bagnoschiuma ma fa niente certo lo spostiamo lo mettiamo per terra e iniziamo allora ho preso i crack integrali eccoli qua crack integrali perché alla sera stasera ho finito il pocherino mezzanotte e mezza una quella che sarà mi faccio il mio bel minestrone e vi mangio un po di pacchettini di crack integrali proprio perché il minestrone è un po pochino poi ho preso le mie caramelle alla liquirizia e mi servivano eccole qua perché alla sera mentre guardo si e sai dove l'order è in compagni rimancio qualche caramellina cioè le caramelle alla liquirizia la mente e quelle miste poi i soliti massi patini hamburger che mi faccio i miei panossi col prosciutto cotto la salsa cotta e la maionese e naturalmente la fettina di formaggio che quello che capita può essere dammer può essere cacciotta può essere mentale e se no poi c'è anche la provola affumicata se non sbaglio poi zuppa fresca pasta e fagioli e zuppona legumi e cereali con olio extravergine d'oliva ah e poi io uso questo di sapone mi lavo le mani col sole marsiglia ma a volte uso quello bianco a volte uso il sole marsiglia tanto non non soffro non ho problemi e mi serve molto questo qui per lavarmi la faccia prima di fare la barba quindi magari un'oretta un'oretta e mezza prima di farmi la barba mi do una bella lavatona con sapone marsiglia eccetera me la rende bella morbida e viene proprio bene adesso vi dico qual è l'altra cosa perché non mi ricordo più mi sembra sia la alla scamorza affumicata giusto che le quattro sottilettine che ho sono e mentale no e dammer e mentre mental cacciotta cacciotta e scamorza affumicata esatto che poi è mentale re dei dammer sono più o meno la stessa cosa solo che uno è tedesco e l'altro è svizzero ma va bene bene ragazzoli spesa finita io vi saluto vi ringrazio adesso vado a fare il video sull'inter anzi il video prima sulla champions e poi vi faccio il video sull'inter prima sulla champion di ieri di martedì e mercoledì che mi ha fatto cadere i maroni comunque ci vediamo dopo ciao ciao